405.500 euro è la somma stanziata dal Consiglio regionale d'Abruzzo per la gestione dell'emergenza incendi dei giorni scorsi. I fondi arrivano grazie ad un emendamento al progetto di legge dedicato alla copertura dei debiti fuori bilancio di Abruzzo e Engineering S.P.A. A gestire questa somma sarà il Servizio di Protezione Civile regionale. Con lo stesso emendamento inoltre la Giunta si impegna a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie per una prevista variazione di bilancio pari a 3 milioni di euro. Questi ulteriori fondi saranno finalizzati al ripristino, al recupero e alla valorizzazione delle aree interessate dagli incendi e per opere di prevenzione e salvaguardia degli stessi luoghi. Sostegni ulteriori, previ a quantificazione del danno, saranno destinati agli agricoltori e alle riserve naturalistiche danneggiate dai roghi. In più, sempre in materia di emergenza incendi, vengono previste iniziative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture private ad uso agricolo e zootecnico, utilizzate dalla Protezione Civile per il pescaggio dell'acqua utile agli spegnimenti. Per l'approvazione di questo emendamento sono arrivati i voti favorevoli anche dai banchi dell'opposizione, i quali però polimizzano con l'attuale governance sulle risorse tagliate per quanto riguarda la Convenzione con i vigili del fuoco. E' il momento nel quale però bisogna anche sottolineare che le risorse erano state tagliate nella Convenzione che riguardava i vigili del fuoco e che bisogna dunque chiedere maggiore riguardo, più attenzione, più prevenzione, migliore programmazione anche per quanto riguarda la campagna della prevenzione degli incenti boschivi in questa regione. Il Governo regionale e il Governo Marsilio debbono prestare più attenzione su questo ed oggi debbono avviare immediata istruttoria per chiedere lo stato di emergenza nazionale e allo stesso tempo progettare in modo solido e convincente quelle che sono le risorse a disposizione per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente con il PNRR. Ciò che però siamo costretti a constatare è che ancora una volta questa giunta regionale si è dimostrata incapace di lavorare sulla previsione, il duro attacco di Sara Marcozzi, consigliera del Movimento 5 Stelle. Sappiamo bene che in Abruzzo nel periodo estivo si creano episodi di questo genere ogni anno eppure nemmeno questo, basta la giunta Marsilio per attivarsi. Intanto già scattata la gara di solidarietà dopo l'appello del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso e da cui hanno già aderito banche ed imprenditori. Nella città di Pescara per far fronte al danno causato dal ruogo che ha distrutto circa 12 ettari tra cui la pineta d'Annunziana, il sindaco Carlo Mascia ha intenzione di far aprire un conto corrente per permettere a tutti di contribuire visto che si parla di danni per diversi milioni di euro.